Il mondo sta fermo, il cuore si muove, e qui canta storie con le storie nuove. Il sole sta fermo e più non tramonta, e qui canta storie che adesso racconta. Il tempo sta fermo e tutti i minuti si sono già messi seduti, si sono già messi seduti, si sono già messi seduti. Ciao bimbi, io sono Sara e faccio parte di un'associazione che si chiama Know How Officina Culturale. A Cuneo è in arrivo una grande festa dedicata ai libri, si chiama Scrittori in Città. Io e Francesca, che avete visto poco fa, vi porteremo dentro alle storie. Bene, venite con noi, sbirceremo attraverso le serrature delle case che ci circondano, per vedere quali personaggi si nascondono. Scoveremo storie di incontri imprevedibili e amicizie sconfinate. A presto, ciao!